Ciao Max, sono tornato, sono tornato e sei contento no? Sì, non vedevo l'uo ragazzo Ecco, meno male Ah, stai filmando? Sì, sì, ma tutti i giorni qui eh, tutti i giorni Beh, bello 24 ore su 24 Quello che volevo dalla vita Oh, fantastico Quindi ci vedremo qui e passeremo tantissimo tempo insieme Non sei molto contento Tutti i giorni PopTV 24 ore su 24 Io e Max che vi saluta Ciao Hip HopTV, solo su Sky, canale 720